Grazie per la visione! No abbiamo iniziato malissimo purtroppo non siamo stati convinti dei nostri mezzi Adesso pian piano stiamo recuperando e stiamo giocando come sappiamo il gioco Va bene, ci imboccolo per il secondo tempo Ora possiamo seguire la visione del secondo tempo? Sì, nel secondo tempo finale della Social Cup Si è appena conclusa la partita tra lo Zenit e Red Davis Partita finita per 14 a 4 a favore dello Zenit Alla mia destra abbiamo il migliore in campo per i Red Davis e stati Con invece alla mia sinistra il migliore per lo Zenit, Marino Giuseppe Partiamo prima dallo sconfitto è statico Partita avere giocato anche con uno in meno Con un portiere diciamo nuovo Sì, siamo stati penalizzati anche da questa mancanza del giocatore Ci abbiamo messo tutta però Con questo è fatto la partita Sono giocato la loro partita Come doveva essere per poi passare il turno Va bene così Grazie Passiamo invece al migliore in campo, Marino Però Marino, prestazione, 11 gol C'è poco da dire Vabbè, loro ho fatto questa assenza dietro si sentiva Perché io ero quasi sempre libero Quindi loro cercavano di andare in progressione offensiva Però si dimenticavano di me dietro E a noi quello che interessava era passare il turno Perché lo Zenit ha affrontato Le ultime giornate si stava un po' sfasciando Invece stasera ha dimostrato Che siamo ancora un gruppo unito Che possiamo dire ancora la nostra in questo torneo Infatti stasera vi siete rifatti con questa grande vittoria No, no, qua abbiamo giocato bene Dipendentemente che erano uno in meno Non abbiamo messo palla a terra E questo è il Diciamo c'era il giusto spirito Zenit in campo stasera Oltre a questa vittoria Ti do anche questa medaglia come migliore in campo Dedico la vittoria alla mia ragazza Alessia Che è venuta a prendere il freddo per me stasera Grazie Grazie Buonasera Ciao Ciao Ciao